San Lazzaro, dopo la bocciatura del progetto AGB, in conferenza di servizi arrivano i no anche per MEB. La storia di Bruna, la nostra Mirella è andata a portarle l'abbraccio di Rete Veneta e adesso lei non è più sola. Mamma e figlia, pazienti al San Bastiano, per farci fare i raggi abbiamo dovuto alzare la voce. Nuovo allentamento delle misure anti-covid per ospedali, RSA e ambulatori cambiano le regole. Dopo il conflitto a fuoco di Fara si attendono i risultati dell'autopsia per fare chiarezza sulla vicenda. Un viaggio nel paese in cui viveva il marocchino ucciso nella sparatoria di Fara. Il decalogo del PD Veneto per la sicurezza sul lavoro, in vista del primo maggio presentato un quadro di interventi. Lavori in corso a Gagliera, arrivano le fognature in molte vie non collegate alla rete. Calcio, i migliori under 14 del Bassanese impegnati al Memorial Nicolli. Edizione serale di Bassano Tg, buonasera a tutti voi telespettatori. Subito parliamo di San Lazzaro. Dopo la bocciatura di ieri per il progetto AGB, arriva un altro coro di no dal Comune, Provincia e Consorzio di Bonifica Brenta. Questa volta per il piano progettuale di MEB. Un no che ha tre voci, quella del Comune di Bassano del Grappa, della Provincia di Vicenza e del Consorzio di Bonifica Brenta. A sole 24 ore dalla bocciatura in conferenza dei servizi del progetto AGB, arriva un altro schiaffo al piano industriale di San Lazzaro, questa volta al progetto di MEB. Un no, quello del Comune di Bassano, che si riassume in due punti fondamentali. La provincia ha espresso il parere negativo, è condizione per la variante Alpatt. Pertanto il Comune non può non adeguarsi a questo. Il secondo è il procedurale, in quanto hanno presentato tre istanze che si legano tra di loro e sono svianti della procedura prevista, straordinaria, dello strumento della legge 55 del 2012. Un parere negativo oggi arrivato anche dal Consorzio di Bonifica Brenta. Un no che oggi pesa più che mai. Oggi è stato chiarito, per esempio il Consiglio di Bassino oggi era presente, e ha chiarito che il suo parere è negativo. Ieri non era presente e l'hanno preso come positivo, ma oggi che era presente, ha detto chiaramente che secondo i suoi studi il parere è negativo. E questo è molto importante perché quello serve a tutelare il discorso idrico. Quindi lei ha puntualizzato che in questo preciso momento, con la nostra crisi climatica idrica, assolutamente fare una cosa così grande sarebbe devastante per le falde acquifere. Una battaglia per proteggere il verde di San Lazzaro, quella di cittadini, associazioni, residenti e anche di Rete Veneta, cominciata ormai un anno fa. E che oggi, dopo 365 giorni, lascia intravedere uno spiraglio di luce. Lei è una residente, quindi insomma un progetto che le sta a cuore anche in maniera differente. Sicuramente, come al solito mi parte la parte emozionale, quindi la gioia di questi giorni di rivedere i trattori, i nostri amici contadini, che davano vita alla terra di nuovo, è stata una cosa immensamente grande. Vediamo ora la storia di Bruna. La nostra Mirella è andata a portarle l'abbraccio di Rete Veneta e adesso Bruna non è più sola. Abbiamo spero quasi 3.000 euro in un mese. Dove andiamo? Dove andiamo? Chiedeva Bruna, 76 anni, malata oncologica. Lei da Rosà è costretta a curarsi a Trento, ma ancora in attesa di una data per una risonanza da parte dell'Ulss7. Senza quella data il tempo si ferma, ma la malattia no, così come non si fermano il dolore e le spese che Bruna deve sostenere. Dove andiamo? Chiedeva. La strada per curarsi è lunga, ma intanto siamo andati noi da lei, perché le braccia tese di Bruna potessero finalmente trovare un abbraccio, un aiuto. Un grazie commosso che commuove Rete Veneta è la nostra Mirella Tuzzato, che ha raccolto la voce bagnata dalle lacrime di una famiglia che adesso non lotta più da sola contro la malattia. Una storia di cuore, ma soprattutto di dignità. Il fatto di cui io non credevo che facessero. L'importante è che stai io a Bruna. Dai un bel vasetto a Bruna, dai un vaso a Bruna, dai un vaso a Bruna, dai un vaso a Bruna. Oh, la, così mi piace. Ecco, capito? La coppia più bella del mondo. Dove andiamo? Chiedeva Bruna. Adesso quegli occhi lucicano di speranza, una nuova speranza e di consapevolezza che lei e il marito non sono soli. C'è l'abbraccio dei Veneti, di Rete Veneta e di Mirella. Questo è l'assegno della grande famiglia di Sveglia Veneti e di Rete Veneta, che ti ha conosciuto perché hai avuto il coraggio di chiamare, di far sentire la tua voce, non cosa facile, quei problemi che hai, però Bruna, te li aveva fatta, a Mirella si è arrivata. Non si è arrivata, non si è arrivata, non si è arrivata, non si è arrivata, non si è arrivata. Tutta la famiglia di Sveglia Veneti perché mi sono qua, ma sono tutti che ti abbracciano. E adesso avanti perché la strada da fare assieme è ancora tanta, da Rosà a Trento. Senza più attese, si spera, senza più la paura di non farcela. Parliamo ora del nuovo allentamento delle misure anti-covid. Dal 1 maggio cade l'obbligo di mascherina negli spazi comuni degli ospedali. Massima discrezionalità a direttori sanitari, pediatri e medici di base. L'obbligo di utilizzo delle mascherine resta nei reparti con pazienti fragili. Addio invece al dispositivo per gli spazi comuni come bar, mens e sale di stazionamento. Questo il senso dell'ordinanza del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, valida a partire dal 1 maggio per pazienti, personale e visitatori. Quanto ai tamponi per l'accesso e pronto soccorso, anche qui la decisione spetta agli ospedali. Ed ora parliamo di una segnalazione dell'Ulse 7. Una mamma con figlia, pazienti al San Bassiano. Dicono per farci fare i raggi abbiamo dovuto alzare la voce. Ancora attese, ancora tempistiche non rispettate, ancora segnalazioni e lamentele di pazienti dell'Ulse 7 che non ce la fanno più. Chi ci chiama è una mamma che racconta disagi e disservizi subiti dalla figlia che aspettava di fare i raggi alla schiena. Un'attesa che è andata ben oltre la priorità dei dieci giorni. Se passai dieci giorni non avevano ancora chiamato, chiamate, lavora, deve andare a lavorare. Lui dice dammi qualche chiamo io. Ho chiamato ieri, sempre da CUP, un disco, perché ho detto ma avete un disco là? Perché sempre le stesse cose, la signora non è ancora in lista, dobbiamo fare una segnalazione. Ho detto ma scusate, ma davvero un disco? Perché se anni mi sento sto disco, ormai siamo tutti stanchi, io so che va altri, ho detto non vi colpa. Ma ho detto non fasi prima a mettere un cartello fuori dall'ospedale Bassano, privato, che allora noi sappiamo, dovete dire dove dobbiamo andare almeno, cosa dobbiamo fare. Una situazione che ha spinto mamma e figlia ad alzare i toni con educazione, ma con la risolutezza di chi vuole venirne a capo, ipotizzando anche di chiamare le forze dell'ordine. Quando gli ho detto così, dieci minuti mi hanno chiamato. Allora ragazzi c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che non va. Non c'è il posto, perché mi sono stata in ospedale, non c'è nessuno dentro. Abbassano questo problema, quando c'è una ricetta di dieci giorni, devono essere dieci giorni, ma quando non rispetta niente, che a sede dieci, che sia tre mesi che aspettare un anno, mi farmi una risonanza. E adesso sto aspettando la visita oculistica, me l'hanno fermata in agosto, se un anno e mezzo che aspetto. E vi ricordo il cartello del TG Linea Aperto, sulle attese infinite, ULS 7 per esami e visite. Quindi scriveteci i vostri problemi, noi come sempre raccoglieremo le vostre voci per dare spazio. Migliora la gente ferito nella sparatoria di Fara, e nel frattempo viene iscritto nel registro degli indagati. Si infittisce il giallo della sparatoria di Fara, Vicentino, costata la vita a un 28enne marocchino. Sale infatti a tre il numero delle persone iscritte nel registro degli indagati per il conflitto a fuoco avvenuto in via Crosara nella mattinata di lunedì. Oltre al vicebrigadiere del Radiomobile di Tiene, già indagato per omicidio commesso per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi, è finito nel fascicolo della procura di Vicenza anche Alex Frusti, l'agente della polizia locale del distretto nord-est Vicentino, colpito da Sufiana e Bubagura prima che questi venisse ucciso dai colpi di pistola sparati nel violento scontro a fuoco. L'ipotesi di reato per Frusti è la medesima, anche se molti dubbi sulla dinamica degli eventi verranno sciolti solamente dall'autopsia sui resti del marocchino che si svolgerà oggi. Indispensabile infatti capire da quanti colpi sia stato raggiunto l'uomo, motivo per cui è stata disposta dal pubblico ministero pure una perizia balistica. L'esame necroscopico è fondamentale per chiarire se il vento tenne fosse sotto l'effetto di sostanze nei concitati momenti della sparatoria. Nel frattempo proseguono le indagini anche a carico di Bubagura con sopralluoghi nella sua abitazione e approfondimenti sulle sue frequentazioni. La quanta emerge dal contesto pari infatti che la vittima della sparatoria abbia proferito parole che farebbero pensare a una sua radicalizzazione anche se la famiglia avrebbe smentito più volte. Questo dettaglio. Migliorano intanto le condizioni di Frusti ricoverato all'ospedale di Sant'Orso con una ferita molto pericolosa al petto. Secondo alcune fonti il proiettile sparato dalla pistola che il marocchino ha sottratto a uno dei due carabinieri avrebbe sfiorato il cuore. E ancora tanti sono i punti interrogativi sulla sparatoria di Faravicentino. Intanto filtrano però delle ipotesi su dove vivesse il giovane marocchino forse ospite di una famiglia a Villa Raspa di Curceresa. Quindi lei vive proprio nella casa accanto? L'acqua gialla. Loro stanno su quella in mezzo. Avrebbe vissuto qui Sofine Bobgara il 29enne marocchino morto nella sparatoria di Faravicentino. Sarebbe stato ospite almeno per un periodo di una famiglia italiana di origine marocchina residente da molti anni a Villa Raspa di Curceresa in via Giovanni XXIII. Una finestra spalancata e dentro solo buio. Una casa, come racconta il vicino frequentata spesso da diverse persone. Di solito ce n'erano due e il ragazzo. Ogni tanto veniva qualcuno però non so se stava dentro o se poi la sera andava via perché andavano via a lavorare tutte le mattine alle sette li sentivo con la macchinetta e tornavano alle cinque di sera. Nessuna segnalazione in residenza e nessun domicilio nel comune di Colceresa. Sofine, secondo l'ipotesi, sarebbe stato un cosiddetto cittadino fantasma. Se fosse ospite saltuario di una famiglia nel nostro comune però insomma so che stanno facendo le loro verifiche e le forze dell'ordine comunque in ogni caso anche se fosse stato ospitato da questa famiglia è una persona che a noi non ci sono mai state segnalazioni particolari di situazioni e soprattutto la famiglia in questione è una famiglia normalissima che anzi non ha mai arrecato problemi almeno a conoscenza nostra né al vicinato né al resto della cittadinanza. Parliamo ora del decalogo del PD Veneto per la sicurezza sul lavoro e in vista del primo maggio è stato presentato a Padova un quadro di interventi. Nel primo trimestre del 2023 in Veneto i morti sul posto di lavoro sono stati 12 e sono aumentati del 33% rispetto allo scorso anno la nostra regione secondo solo la Lombardia nel triste podio per il maggior numero di morti bianche dal 2017 in Veneto infatti hanno perso la vita 674 lavoratori aumentano anche le denunce di infortuni e le malattie professionali numeri drammatici per una regione da sempre considerata locomotiva d'Italia il PD Veneto in occasione della giornata mondiale della sicurezza sul lavoro e in vista del primo maggio ha presentato così una campagna per affrontare questa emergenza nazionale che tocca profondamente anche la nostra regione al primo posto del decalogo l'incremento del personale Spisal bisogna aumentare i controlli avere più personale degli Spisal quindi la regione deve procedere con le assunzioni che finora non ha fatto bisogna rendere la prevenzione più efficace aumentare la formazione fare in modo che il lavoro sia più sicuro anche perché è fondato su diritti migliori per i lavoratori dal caporalato nelle campagne rodigine allo sfruttamento nei cantieri navali e la piaga del lavoro nero tra le dieci proposte del PD Veneto centrale è anche il tema della vigilanza e dei controlli nei cantieri misure di contrasto alla precarietà e l'attenzione alla formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro c'è il grande tema della connessione purtroppo tristemente forte tra gli infortuni sul lavoro e il tema dello sfruttamento dell'illegalità e del subappalto e quelli devono essere i luoghi in cui la vigilanza viene aumentata la seconda parola d'ordine è prevenzione perché ovviamente la sicurezza sul lavoro appunto non può essere un vessillo che si sventola quando c'è la tragedia ma deve essere un processo costruito giorno dopo giorno passo dopo passo e lo si può fare attraverso appunto un'azione di prevenzione che si fondi sulla formazione e riparte deciso l'iter della nuova palestra di Marossica grazie ad un accordo fra pubblico e privato fa un passo in avanti il progetto della nuova palestra grande di Marossica il comune ha infatti sottoscritto una convenzione urbanistica per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione del quartiere Libertà il cui piano di lottizzazione è situato fra via Libertà e via Martiri delle Foibe i privati che realizzeranno le future unità abitative si sono impegnati a cedere al comune dei terreni che sono necessari per la costruzione della nuova palestra per quanto riguarda due mappali adiacenti al campo sportivo in erba sintetica la superficie totale è di circa 750 metri quadrati che serviranno alla realizzazione della nuova struttura sportiva per questo nuovo impianto che si affianca alla pista di atletica alla piscina al campo da calcio al bocciodromo il comune sta lavorando per attingere i fondi del PNRR per circa 4 milioni di euro le prospettive sono comunque positive dato che l'amministrazione è entrata in graduatoria per uno dei bandi dedicati alla rigenerazione urbana assieme ai comuni di Pianezze e Colceresa il finanziamento complessivo richiesto è di 5 milioni finalmente ci siamo arrivati in quest'area sorgerà la palestra grande della città di Marostica finalmente siamo arrivati al completamento del litter burocratico con i proprietari delle aree adiacenti con la cessione di superfici che servivano per realizzare appunto gli spazi della palestra il sindaco sottolinea come questo accordo sia arrivato grazie alla grande disponibilità dei privati a sedersi attorno al tavolo sbloccando virtualmente una tematica ferma da 15 anni ringrazio i privati per la grande sensibilità dimostrata e anche la grande disponibilità data all'amministrazione comunale di sedersi a un tavolo e lavorare a una soluzione condivisa che potesse trovare un comune accordo che di fatto è quello del benessere per tutte le nuove generazioni che di fatto ora con una superficie di proprietà del comune l'ente potrà impegnarsi a realizzare quello che serve a loro ovvero la grande palestra mezzi d'epoca invadono l'alto vicentino con camion e corriere storici tra Marossica Bassano e Schio sabato e domenica si terrà il raduno di camion e autobus d'epoca organizzato dall'associazione italiana trasporti d'epoca saranno protagonisti di questa manifestazione alcune decine di mezzi unici e rari provenienti soprattutto dal nord e centro Italia ma anche da altri paesi stranieri il corteo avrà luogo nelle città di Schio Marossica e Bassano del Grappa domenica alle 11 si terrà una conferenza riguardo gli autobus dalla via 1905-2008 nell'anificio Conte di Schio per rendere omaggio ad una delle più importanti e prestigiose carrozzerie storiche italiane Ora parliamo di calcio con i migliori under 14 del Bassanese impegnati al Memorial Nicolli Bassano è pronta a farsi onore nel torneo Memorial Nicolli l'appuntamento clou tra le rappresentative delle delegazioni provinciali e distrettuali del Comitato Regionale Veneto che quest'anno coinvolge la categoria under 14 Siamo pronti per la partenza di sabato per l'ennesimo torneo Nicolli che la delegazione di Bassano affronterà sempre con entusiasmo e con voglia di trasmettere a questi ragazzi la passione e l'amore per questo sport Abbiamo visionato un centinaio di ragazzi delle squadre del Bassanese e finalmente siamo arrivati a scegliere i fatti di C20 che verranno al torneo di Caorle e li abbiamo scelti considerando sia l'aspetto tecnico che quello soprattutto comportamentale Fino al primo maggio saranno tre giornate ricche di emozioni in quella che sarà la ventitreesima edizione del torneo e c'è chi come il delegato Livio Birti queste emozioni le ha vissute tutte fin dall'inizio Come abbiamo detto a questi ragazzi tre cose importanti la passione il divertimento e l'amicizia per il calcio Ora vediamo altre brevi notizie del territorio Posa della prima pietra della scuola per l'infanzia Rossano Veneto domani il progetto costato 2 milioni e 600 mila euro di cui quasi 2 milioni e 400 mila euro con il contributo PNRR sarà inaugurato alle 11 investimento di 30 mila euro per il nuovo guardrail in contraccas a zone bassi a Rubio 150 metri di strada saranno protetti da questa barriera di sicurezza per ridurre la pericolosità di una curvatura Torna l'appuntamento a Rosaco la sesta marcia serale Ludico Motori alla Rosada il ritrovo si terrà sabato alle 17.30 al Parco delle Rosi in via Schallstad Lavori in corso a Gagliera Veneta arriva la nuova fognatura per molte famiglie Dovranno essere ultimati entro settembre i lavori di estensione della rete fognaria e di alcuni tratti delle vie campagna 25 aprile e 8 marzo nel territorio di Gagliera Veneta che sono attualmente sprovviste del servizio E' questo l'oggetto dei lavori consegnati alla ditta incaricata lo scorso 27 febbraio L'investimento è di 138.700 euro finanziati con i fondi di Etra previsti nel piano d'ambito del consiglio di Bacino Brenta e da contributi regionali Continua l'impegno di questa amministrazione per il territorio commenta il sindaco di Gagliera Italo Perfetti con interventi che uniscono attenzione all'ambiente e alla sicurezza stradale E tre comune stanno inoltre lavorando un ulteriore intervento che interesserà entro fine anno via Tombolata dove verrà posato circa un chilometro di nuova rete Al termine dei lavori la pavimentazione stradale particolarmente ammalorata dal transito di mezzi pesanti sarà completamente rifatta Tanti gli ospiti questa sera che accompagneranno la conduzione del nostro direttore Luigi Baccialli Parliamo di Mario Fabris Gianfranco Giovine Roberto Grigoletto Giuliano Guidotto Paolo Pizzolato Eleonora Sorato Massimo Venturato e Amerigo Vianello Appuntamento quindi a partire dalle 21.15 Ora vediamo le previsioni del tempo di domani Grazie a tutti di essere stati in nostra compagnia Buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti